La posizione bella allungata, braccio disteso, la testa comodamente sopra, la spalla giù, addome dentro, glutei stretti, le gambe leggermente più avanti, ok? E addome dentro, 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 inspiro e ispirando allungo la gamba sopra, inspiro ancora, giù e allungo leggermente rialzando, inspiro ancora, inspiro e ancora, ultime due e ultimo. Adesso attenzione, allungo, inspiro e sperando fletto in su, la punta e allungo e scendo. Ancora allungando, inspiro, allungo, fletto, allungo e scendo ancora, inspiro, scendo ancora, inspiro e lascio su, espirando avvicino la gamba sotto. Inspiro, ancora, inspiro, addome bene dentro, la spalla giù, ancora quattro, tre, due, uno, stop. Adesso vado a picchiare, battu, 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 battu. Potete fare con il vostro ritmo anche più lentamente cercando di unire le due gambe, ok? E stop, attenzione adesso, porto la gamba piegata verso, sopra il ginocchio, alzando il ginocchio verso la spalla, allungo la gamba, piego a martello e scendo. Ancora una carezza sulla gamba sotto, avvicino e sperando scendo, ancora inspiro e scendo, ancora inspiro e scendo. Non cadere indietro, glutei ben stretti, scendo, fa ancora e scendo, cambio, salgo martello, la punta e scendo. Martello, la punta, scendo, ancora martello e ancora. Ultime due, e ultimo, e stop. Molto bene, piego le ginocchia a 90 gradi e vado a fare dei bel cerchioni con la gamba sopra. Attenzione, non cado indietro, bacino però fermo, corcigi. Tranquillo, invece, non cado indietro e apro ampiamente il ginocchio, al massimo che posso. Ok? Sentite come si riscalda l'anca, i muscoli, i tendini e cambio senso di rotazione. Da fuori, ok, ancora, molto bene avanti, la spalla appoggiata giù, collo lunghissimo, la cervicale riposa, ultime due, e stop. Avvicino il ginocchio al petto, tengo, 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 prendo il collo del piede e vado a portare il talone verso il gluteo. Ok? Inspiro, rilascio, espirando porto ancora bene indietro. Inspiro, rilascio ancora indietro. Inspiro e ancora indietro. Ultime due. Attenzione, il bacino bello dritto e stop. Con aiuto, le spalle ben aperte, le gambe unite insieme. Addome dentro, lavoriamo col fianco. Inspiro, espirando risalgo. Scendo ma non tocco, ancora soffio. Ancora inspiro, soffio. Apro bene le spalle, le scapole piatte. Ancora inspiro. Spingo bene, ma con tanta gentilezza e fluidità. Ancora. Inspiro. E ultimo vado ad allungare la gamba. Allungo, tiro il braccio in su, la gamba. E se voglio, la alzo anche. Ok, scelto piano e andiamo a cambiare il lato. Molto bene, ci distendiamo. D'altra parte, collo lungo, addome dentro, le gambe ben distese. Posizione pilates, espirando allungo la gamba sopra. Ancora. Inspiro, allungo. Inspiro, allungo. Ultime due. E ancora. Attenzione adesso. Allungo, fletto, allungo, scendo. Allungo, fletto, allungo. Il talone giù e la punta su. Glutei strettissimi. E ultima volta. Lascio su. E espirando avvicino altra gamba. Ancora. Ancora. Inspiro. Soffio. Inspiro. Inspiro. Fuori. Inspiro. Soffio. E ultime due. E ultimo stop. Batto, 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 batto. Stringo glutei e le gambe tesissime come due corde. Lavoriamo sull'interno coscio allungando sempre di più le gambe. E andiamo a fare i nostri cerchi. E insomma in verticale. Ancora. Ancora. Ultimi due. Ultima. E ultimo. Cambio. Cambio. Allungo. Talone. La punta. Inspiro. Talone. La punta. Allungo. Allungo. Ultimi due. E ultimo. Testo. Fletto le ginocchia a 90 gradi. Ok. Iniziamo le nostre cerchi grandi. Morbidi, fluidi, burrosi. Ancora. Inspiro. Ancora. Quattro. Tre. Scegliete il vostro ritmo. Due. Non è mai, non dovete mai fare troppo velocemente perché fluidità è uno dei principi importantissimi di Pilates. Ancora. Ancora. Ultimi due. E stop. Insieme andiamo su un braccio. Ok. Belli aperti. Ok. Addome dentro il colo. Longissimo. Inspiro. E vado. Uscendo ma non tocco. Ancora. Inspiro. E ancora. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Vado ad allungare la gamba. I bracci. Vado ad allungare la gamba. Ok. Grazie.